Storica qualificazione al playoff di Serie 2 per le nuove Pantere Lucca, un nuovo capitolo nella storia del softball lucchese, un traguardo bellissimo che testimonia la crescita e la determinazione di tutta la società. A dire il vero, il viaggio verso i playoff non è stato privo di sfide. La squadra, composta da giovani talenti e giocatrici esperte, ha affrontato una stagione intensa caratterizzata da partite avvincenti e momenti di difficoltà. Tuttavia la coesione del gruppo, l'impegno degli allenatori, il supporto incondizionato dei tifosi, hanno fatto la differenza. Le giocatrici, capitanate da Caterina Meoni, leader carismatica e punto di riferimento in campo, sono state le vere protagoniste di una storica qualificazione, avendo dimostrato grinta e determinazioni fuori dal comune. Ora con l'accesso al playoff le nuove Pantere si preparano ad affrontare una nuova appassionante sfida. Appuntamento domenica 28 luglio, ore 11, a Carraia contro il Forte Legnano. Si giocherà al meglio delle cinque partite, le prime due sul diamante amico e con la necessità di cercare magari un franco 2-0, la settimana successiva trasserte in Lombardia con eventuale Bella. La squadra è consapevole delle difficoltà che la tendono, ma anche determinata a dare il massimo per onorare il prestigioso traguardo raggiunto. Chi la spunterà se la vedrà a settembre con la vincente di Bollate Rovigo. Il sogno è quello di continuare a crescere, chissà, magari puntare a traguardi ancora più ambiziosi. Intanto domenica prossima, ultima in influente gara di campionato a Nettuno, dove forse molti non lo sanno, giocò a baseball tanti anni fa anche un giovanissimo Bruno Conti.